Sono ben quattro i sindaci del Pratese che siederanno nel Consiglio Provinciale presieduto dal quinto primo cittadino Francesco Pugeli di Poggio a Caiano, Matteo Biffoni di Prato, Giovanni Morganti di Vernio, Primo Bosi di Vaiano e Guglielmo Buongiorno di Cantagallo. Ieri si sono svolte le votazioni per il rinnovo di questo organo che con la riforma delle province è diventato di secondo grado e come tale non è più a elezione diretta da parte dei cittadini. Potevano votare i 119 consiglieri comunali dei sette comuni della provincia. Lo hanno fatto in 98, pari all'82,3%. La lista di centro-sinistra ha ottenuto otto seggi, mentre quella di centro-destra due. Oltre ai quattro sindaci sono stati eletti Paola Tassi, consigliere comunale PD di Prato, Dario Di Giacomo, consigliere comunale PD di Carmignano, Federica Palanghi, consigliere comunale PD di Montemurlo, Paola Vettori, consigliere comunale PD di Poggio a Caiano, Francesco Calugi, consigliere comunale di Forza Italia a Carmignano e Diletta Bresci, consigliere comunale della Lega, Poggio a Caiano. Tale consiglio rimarrà in carica per i prossimi due anni. Soddisfatto il presidente della provincia, Francesco Pugelli. Da una parte di dare rappresentanza a tutti i comuni della provincia. Sono stati eletti consiglieri provinciali che provengono dai comuni di Cantagallo fino al comune di Carmignano. Ogni comune è rappresentato. rappresentato anche attraverso i sindaci, a dare un maggior segnale di legame con le comunità, con i comuni e con tutto il territorio dell'area.